Nel dopo partita del derby tra il Caraffa e il Girifalco qui nello stadio Antonio Puccio in compagnia di Mr. Loiarro del Girifalco una sconfitta che poteva anche starci però visto il primo tempo chiaramente speravate in qualcosa in più è vero, primo tempo fatto molto bene, giocato alla pari abbiamo avuto l'occasione per portarci in vantaggio diverse volte però il Caraffa è stato bravo a reagire su un calcio d'angolo al trovare il gol del vantaggio abbiamo provato a sistemare qualcosa che non andava però due episodi sfavorevoli, un'uscita nostra sbagliata è un ragazzo che perde palla a centrocampo, ultimo uomo e prendiamo i due gol il Caraffa è una squadra attrezzata, forte, singolarmente secondo me è la squadra più forte del campionato e se la giocheranno fino all'ultimo con lo scandale per la vittoria con Tonino Mirarchi, mister del Caraffa che se dovesse essere confermato l'1-1 di Borgia dello scandale dopo la vittoria di oggi praticamente si riaffaccia in vetta la classifica a pari punti con lo scandale a punti sembrerebbe così, ancora non sappiamo l'esito finale di Borgia comunque se è così siamo a pari punti con lo scandale quindi domenica ci attende questa gara che per noi sicuramente è una finale tra virgolette inaspettata perché a inizio campionato erano diversi gli obiettivi ma adesso siamo qui, ovviamente non possiamo nasconderci di un dito e andremo a scandale per fare la nostra onesta gara Un campionato da incorniciare fino a questo punto una sola sconfitta, quella di Chiaravalle che in questo momento inizia a far la differenza Sicuramente sì, noi purtroppo tra virgolette, dico sempre tra virgolette perché anche il Giri Falco che oggi abbiamo vinto 3-0 l'andata abbiamo pareggiato a Giri Falco, abbiamo pareggiato a Valle Fiorita abbiamo perso a Chiaravalle come dice lei quindi abbiamo persi dei punti inaspettati come si suol dire però il calcio è questo, è bello per questo potremmo essere forse, non so, ahimè, qualche punto più avanti però non recrimiamo nulla, andiamo avanti e domenica andremo a fare questa finale scandale sperando che tutto vada bene